Allora, è arrivata Giorgia Meloni, l'unica donna segretaria di partito in questo paese. Dico sempre che per diventarlo se l'è fondato il partito da sola. Detto questo, facciamo un discorso da donne, che però forse è bene fare anche in video, perché io prima ho fatto un'osservazione del fatto che sono indignata che abbiano bullizzato Teresa Bellanova, non per quello che fa o dice, ma per come era vestita e per il suo peso ieri al Quirinale, e mi diceva la Meloni che la pensa esattamente allo stesso modo e che la difesa, perché solo con le donne lo fanno. Sì, cioè io dico che un ministro va giudicato per il lavoro che fa e non per come si veste, e soprattutto è un po' fastidioso questo fatto che si faccia solamente con le donne, perché io vedo un sacco di uomini vestiti malissimo, ogni giorno, e non sono io a parlarne per giorni, voglio dire, si fa con noi, perché pare che noi, quando si parla delle donne, si debba parlare di questo, insomma invece Teresa Bellanova, indipendentemente da come si veste, la giudicheremo per come fa il ministro. Ecco, questo...